Circe a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con Luca di Birra del Genio che ci sta ospitando per diciamo raccontarci un po' chi è Luca, guarda già è serissimo, male, malissimo, chi è Luca e soprattutto chi è il birrificio del Genio. Luca, ciao intanto, rilassiamoci, beviamoci subito, facciamo subito un gizzo così almeno ci rilassiamo. Cosa stiamo bevendo? Stiamo bevendo una ipa, che magari te la racconto dopo, la prima domanda era un'altra. Giusto, chi è Luca? Raccontaci di te. Chi mi conosce sa che intanto parlare di me è una cosa che non mi piace, come primissima cosa, quindi faccio già un grandissimo sforzo per potermi raccontare. Diciamo che sono un sognatore, mi piace sognare, mi piace inseguire i sogni e cercare di concretizzarli. Infatti il birrificio del Genio nasce proprio da un sogno che era quello di fare di una passione, ecco un po' la mia attività principale. Il birrificio del Genio nasce, di fatto la sua prima distribuzione l'ha avuta a luglio di un annetto e mezzo fa, quindi 2022. Perché sei un sognatore, già l'avevamo capito dal nostro primo incontro, perché comunque è stata una di quelle cose fortuna, io facevo l'esame per diventare un BT, tu mi hai fermato, poi abbiamo passato tutta la serata insieme. La serata insieme e dai tuoi racconti si capisce subito che sei un sognatore e sbarra visionario, nel senso che si capisce la passione che c'è dietro questo progetto. Quindi stavi dicendo, scusami, il birrificio del Genio? Sì, è stato un progetto che non è soltanto volontà mia ma anche del mio socio che in questo momento non vedete, probabilmente o lo vedete mai perché o vedete me o vedete lui. Come ogni attività artigianale, insomma richiede del tempo, richiede delle cose, quindi se io sono qui lui è a fare o birra o a fare delle consegne, in questo momento è a fare altro. Nino Indenburgo, pure lui è un brewer, appassionato del mondo della birra artigianale, di fatto eravamo colleghi in un altro lavoro, parlavamo del più e del meno e abbiamo riscoperto appunto, abbiamo scoperto questa passione in comune per la birra, entrambi un brewer, ma dopo almeno due anni che lavoravamo assieme, cioè sai quelle cosette ti teni nascosto. Quindi ognuno per i fatti suoi già facevano. Sì, 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 non dicevamo, nessuno ecco svelava questa passione. Cioè non era argomento di discussione. Non era argomento di discussione. E poi ci siamo detti che forse era arrivato il momento, ecco di, eravamo assieme, stavamo pranzando, ma proviamo a fare un birrificio, non lo so, così buttiamo giù due conti, vediamo se ci riusciamo, cosa c'è in giro, cosa riusciamo a fare con le nostre, con i nostri, alla fine i risparmi, perché insomma noi tutto quello che è al birrificio è frutto di risparmi di, si può dire ormai una vita, perché a 40 anni giusto ormai uno dice di una vita. Il nostro, la nostra fortuna è stata che è da, diciamo, da pochissimo un birrificio, la nostra fortuna, la sfortuna di un altro purtroppo, aveva deciso di chiudere e dedicarsi all'altra attività che già aveva e abbiamo acquistato le sue attrezzature, che di fatto erano nuove, nuove immacolate, c'erano, non avevo neanche avuto il tempo di utilizzarle, erano ancora impacchettate, un impianto a fiamma da 50 litri, insomma una linea di fermentatori quelli e vabbè sì, insomma poi linea di imbottigliamento che è a mano, non è isobarica. Quindi artigiani al 100%, fiamma, fiamma, sudore, il mestolone alto quanto a me, l'etichettatrice a mano, timbratrice insomma a mano, come puoi vedere noi timbriamo tutte le etichette a una a una, ed è una cosa che difendiamo e che continuiamo a fare così perché alla fine facendo la media di 50 litri per cotta il bancale lo fai fuori, diciamo lo riesci a riempire in una giornata di lavoro. E non vogliamo investire in attrezzature di linee automatiche perché molti parlano di birra artigianale, la birra artigianale è una birra insomma buonissima, la birra fatta con passione, con amore, ma poi di fatto se io devo ammaccare un bottone, la ricetta è già buonissima, e poi uno mette il cartone abito e poi si perde anche l'idea dell'aspetto dell'artigianalità, io su questo sono d'accordo con te, nel senso capisco che oggi ci siano delle accortezze tecniche e tecnologiche che permettono di alleggerire il lavoro, automatizzarlo e tutto il resto, pur mantenendo magari utilizzando delle materie prime di qualità, comunque la qualità del prodotto si mantiene se non si alza addirittura, però si va a perdere quello che è un po' la mano di chi la fa questa birra, si rischia che siano tutte uguali. Sì, al di là di, non è più, la produzione del mostro è, diciamo, anche se la linea è automatica, può avere sempre delle leggere differenze, no? Questo, vuoi la lupolatura, vuoi poi la fermentazione, insomma, sono tutta una serie di processi poi che fino a un certo punto uno riesce a governare, e poi succede un mondo del fermentatore e non lo governa più. Se però si abbandona il contatto diretto con la bottiglia, con l'etichetta, noi tappiamo a mano anche, facciamo tutto a mano, ma il volume, certo, forse non lo so se avessimo un impianto da 10 ettolitri, se riusciremmo mai a riempire in due, però è anche quello, vuoi mettere la chiacchierata durante una giornata di lavoro con il tuo socio, il tuo confidente, perché poi si diventa anche, non soltanto amici, confidenti, ecco, si condividono gioie e dolori di un'attività, diciamo, condivisa in tutto e per tutto, il contatto con la macchina te lo toglie, perché poi alla fine uno sta all'inizio della linea, uno alla fine, e neanche, sei tranquillo, non c'è la, lo continueremo a difendere, e anche perché se io dovessi mai investire in una linea di imbottigliamento a conti fatti, preferirei poi investire su mano d'opera, quindi continuare a cercare nel piccolo di attirare sempre più persone persone nel messaggio che di fatto noi cerchiamo sempre di mandare nella nostra birra, che è con la nostra birra, che è proprio la condivisione di qualcosa. Così è nato anche l'idea, cioè il nome birra del genio. Birra del genio è, con il mio socio, agli stati primordiali, no? Gli stati primordiali del fare impresa, ci chiedevamo, va bene adesso come chiamiamo la nostra birra, che è il nome diamo al nostro birrificio. Eravamo, eravamo, diciamo, in un quartiere a Palermo che si chiama Bucciria, questo quartiere che è un quartiere storico della città. Lì stavamo bevendo una birra, seduti in tavoli, insomma, di quei pub che ci sono lì, e improvvisamente ci venne proprio in mente la figura del genio, del genio di Palermo, del genio Sloci, in particolare, perché lì, a due passi, proprio sempre lì in Bucciria, in un vicoletto, c'è una statua proprio del genio, che è quello che abbiamo in etichetta, che si chiama, proprio in questo caso, Palermo Lugranni, genio del garraffo. Ed è stato proprio un'illuminazione, perché anche garraf in arabo significa acqua, la birra, l'elemento principale, no, è l'acqua, quindi è stata la birra del genio, la birra della città, la birra che comunque il genio è il genio Sloci, è identità di un luogo, che è fatto appunto di uno spazio fisico, che sono proprio la città, le mura, insomma, le piazze, è della componente umana, quindi è indiscendibile. Là dove ci sono delle persone, dove c'è un luogo, dove c'è vita, c'è un genio Sloci, ed è tutta la Sicilia, non è che dici, vabbè, andiamo a Palermo, andiamo, c'è, si respira comunque un animo, un'essenza diversa, no, anche a Ortigia, giusto, si va a Ortigia, c'è, quindi c'è la presenza di un genio, e dove c'è una piazza, dove c'è una condivisione, quasi sempre trovi delle persone che stanno bevendo, almeno una birra, qualcuno lo trovi sempre, giusto, e quindi è stato per noi semplicissimo poi di riuscire a dare questo... È stato quasi naturale, praticamente, andare a prendere questo nome. Bene, ti volevo chiedere perché birra del genio, l'hai già detto. L'ho già detto. È bellissimo intervistare Luca, non si fa fare neanche le domande, già lui anticipa, ecco, stia avanti, sa anche le domande. Ok, come vedi il mondo della birra artigianale? Allora, lo vedo felicissimo. Al di là del discorso che abbiamo fatto sulla produzione, che insomma preferisci il discorso di metterci le mani il più possibile, piuttosto che automatizzare? Io lo vedo felice anche perché, dico, noi siamo una piccola realtà di birrificio artigianale, però ci sono altre realtà, no, che hanno fatto anche un po' la storia della birra artigianale qua in Italia, e stiamo leggendo tutti quanti queste rivoluzioni che stanno avvenendo, giusto? Quindi è anche il trend della birra artigianale, prima di fare imprese, prima di investire il capitale che abbiamo investito, un minimo di indagini di mercato uno cerca di farlo. Certo. Con un po' di testa, per quello che uno riesce a capire, di politiche di mercato. E comunque il trend è in ascesa, sembrerebbe in ascesa, e io, cioè noi, almeno, che ci confrontiamo in questo momento con la città di Palermo, da cui stiamo ricevendo tanto amore, perché di quello si tratta, lo stiamo vedendo. Noi siamo partiti appunto a luglio del 2022 con cinque locali, sei locali, così, avevamo prodotto a fine anno, non so, dieci ettolitri. Ok. Il 2023 l'abbiamo chiuso con quasi cinquantacinque ettolitri, quindi più che decubicata, no? Certo. Perché questo? Perché quando tu poi, forse perché noi come siciliani abbiamo un po' un orgoglio è sempre più vicino a chi è, fa qualcosa di locale, no? Cerca di sempre, diciamo, la nostra fortuna è quella di riuscire a calmierare un po' i costi di, diciamo, di produzione. Non vogliamo lucrare, perché il nostro obiettivo è proprio quello di cercare di diffondere quanto più possibile il sapore, il gusto di una birra artigianale che, vuoi o non vuoi, sarà sempre diversa la mia rispetto a quella che produce un altro birrificio, seppure facciamo lo stesso stile di birra. Assolutamente. Come, per esempio, la Yipa che stai bevendo adesso, no? La Yipa è, come tutte le birre che abbiamo prodotto, è un po'... Noi siamo sempre, basta il contrario, no? Cattiamo di fare qualcosa che tu bevessi. E tanta gente mi dice, no? La blanche, che la primissima nostra produzione fu una blanche, proprio perché il nostro target sono, non avendo un brew pub, erano pizzerie, ristoranti, quindi siamo entrati con una blanche, una birra da pasto, bevenina, frizzantina, speziata, crumata, noi mangiamo pesce, mangiamo fritto, quindi era perfetta. La differenza dove stava, che solitamente le blanche non sono eccessivamente magari frizzanti, tendono ad essere molto morbide al palato. Noi abbiamo spinto proprio la frizzantezza di questa birra affinché potesse essere sciacqua a bocca, pulire la lingua, la frizzantezza, ti pulisce il palato. Noi mangiamo fritto e mangiamo pesce, ci voleva questa stile apprezzata, critica, ma noi abbiamo cominciato a fare così. Entriamo nel periodo invernale, la Golden Ale nasce proprio in questo momento in cui, anche se Palermo è una città che vive tanto la piazza, vive tanto la strada, serviva una birra che avesse un corpo un po' più pieno, più persistente. E allora ci siamo detti, va bene, noi non dimentichiamo che ci piace sposare la territorialità del prodotto perché le nostre materie prime non è facile trovare il malto locale, il siciliano, non ce n'è, che cosa mettiamo? Eravamo ancora troppo giovani, siamo ancora troppo giovani per riuscire ad abbracciare i lupoletti che ci sono qui in Sicilia, c'è un... però c'è la possibilità di modificare anche il gruit della birra stessa. Da qui rispolverando delle vecchie ricette nasce la Golden Ale, una ricetta che è molto scarica di luppolo, ma prevede l'utilizzo dell'achillea, quella famosa... Ah, era l'erbetta segreta! Ah, finalmente l'abbiamo scoperta! L'avete scoperta! L'achillea, che è... Lo stai dicendo perché non la fate più? No, no, la chiede la facciamo, la facciamo, e adesso è arrivato il momento di svelarla, Ah, ok, ok... Che raccoglie il mio socio in montagna, lui è nella zona di Monreale, le montagne stanno sopra la città di Palermo, cresce lì, facciamo produzioni limitate perché quella che riusciamo a trovare raccogliamo e non vogliamo neanche esagerare prendendo troppo. Quindi questo sapore, diciamo, erbaceo, tannico, che si sente, questo sapore un po' mentolato, è questo. Quindi se è la Blanche, si sentiva molto la scorza d'arancio e il coriandolo, scorza d'arancio che era un arancio amaro che cresce nelle campagne sempre del mio socio, quindi utilizzavamo quella scorza d'arancia, qui nella Golden Ale l'Achillea. Ma ne serve molta per... Guarda, noi per 5 ettolitri ne utilizziamo una quarantina, cinquantina di grammi giù di lì. Ah, quindi pochissimo. Eppure lo sentivi, questo sapore forte. Perché è molto intenso già come... Intensissimo come sapore. Ed è predominante. Secondo noi funziona tantissimo. Non avrebbe senso fare la ricetta medievale che, insomma, non prevedeva utilizzare il luppolo. Certo. Perché non abbiamo, dicono, la possibilità di non luppolare. Il luppolo è un elemento ormai fondamentale, la conserva. Poi nasce la PILS. Il nostro pacchetto clienti aumenta. Andavamo in sofferenza anche economica. Dovevamo trovare una risposta di mercato. Le pizzerie cominciavano a crescere e abbiamo fatto questa PILS. Malto 100% italiano. Due luppoli. Quindi si sentiva un po' la... Ci piace tanto utilizzare il malto italiano perché ha una crusca, diciamo, molto spessa. Ok. Si sente proprio la nota di pane in questo malto. Ok. Le altre, invece, hanno anche malti che sono tedeschi, insomma. Il granaio è quello. È classico, diciamo. Quello. Un luppolo tedesco e un luppolo neozelandese. Questo nella PILS. Nella PILS. Ok. Poi nasce la rossa, che ti farò provare fra un po'. Lì ci sono sei malti. Anche la rossa è una red, è il stile inglese, ovviamente. Ok. Basta carbonazione. Una ricetta che abbiamo rivisto rispetto a quelle che avevamo, sempre perché il cliente prevalente, il cliente principale di chi distribuisce sono le pizzerie. Certo, la birra sia... Birra e pizza è giusto. A parte quello, ma diciamo che oggi, nelle croniche odierne, sentiamo di grandi birrifici che vogliono entrare in questo mercato. Nel senso, vogliono entrare nel mercato dei... Attentato! Attenzione! Attentato! No, no, no. Tutto a posto. Che è un cantiere fra un pochino... Non è successo niente. Non è successo niente. Perché le croniche di questi giorni, insomma, ci dicono che grandi birrifici vogliono entrare nel mercato delle pizzerie, nel mercato dei baretti, nel mercato del piccolo pub non specializzato in birra artigianale. Perché forse finalmente si sta iniziando a capire che la birra artigianale deve raggiungere tutti, non solo chi è estremamente appassionato e quindi se la va a cercare. Cioè, non solo Marco che viene da Siracusa a Palermo che venisse a bere la Red Ale. Stupazzo! Non può campare così sicuramente un birrificio. Deve campare con la gente che è attorno, fondamentalmente. Quindi quello è... Si deve poter trovare un po' ovunque. Nel senso, quella è anche... Non è difficile. Bisogna... Diciamo, io credo che è una... Intanto la strategia che noi ha... Sono contento di dirlo. Com'è che da 5 siamo arrivati già quasi 50 locali a Palermo e provincia? Perché la cosa fondamentale di chi... Diciamo, di chi hai davanti quando presenti la tua birra o quando fai provare la tua birra è che c'è sempre diffidenza dall'altro lato. Ok, certo. Ormai tutti sono abituati al cadavere in bottiglia, giusto come definì il grande Teo Musso. La cosa fondamentale quando un produttore di birra attigianale vuole cercare di prendere un cliente è quella di non andare lì, prendi la bottiglia, lasci la campionatura, vabbè poi mi fai sapere, non esiste. Quando possiamo incontrarci per assaggiare la birra, magari sei fortunato e ti dici in quel momento proviamola ora, diversamente gliela devi raccontare, devi vedere la sua faccia, le sue espressioni, cosa dice, cosa non dice. Poi l'accordo commerciale si trova, perché quello poi... parlo non lo so, i danari, il bile danaro, però quello è, nel senso anche lì passa... Non va lasciata mai, la devi provare con chi è davanti, perché c'è diffidenza, perché c'è diffidenza, perché noi facciamo prodotti e sono vivi in bottiglia, quindi questa bottiglia noi siamo stati fortunati ad avere il bel clima in Sicilia, però da questo punto di vista siamo sfortunati, perché ad agosto un cartone di birra lasciato in un magazzino, al caldo possibilmente succede il disastro, quindi magari hanno avuto delle brutte esperienze, ma non dovuta al prodotto, nessuno mai si sognerebbe di imbottigliare un prodotto che non va bene, ne va della propria immagine, ne va della propria reputazione. Ecco perché anche noi cerchiamo di, al nostro discapito, consegnare sempre piccoli quantità anche a clienti che hanno un ricambio, te lo porto lo stesso. È uno sbattimento in più per me, però mi accontento perché così mi assicuro che non fai stranezza, ne tu e neanche io, poi non mi richiami più perché la birra non è piaciuta, perché insomma... Mi accontento di fare una cosa a voglia, anche lì è uno sforzo in più che si deve fare, però come dici tu è necessario perché così che a voglia spiegare, poi alla fine la pizzeria, la piccola pizzeria o il piccolo pabbettino, magari non è organizzato per conservare quelle cose e non può essere uno sbattimento suo, tra virgolette, deve essere facilitato in questa cosa, gli si deve spiegare come poterla conservare, però bisogna anche facilitarlo il più possibile. Guardare soprattutto i magazzini, questo aiuta tantissimo, tanti tanti magazzini, in centri storici sono piccoli e lì trovi anche magari il frigorifero, trovi lì, non hai possibilità di fare altro, nel senso... Meglio portare un cartone, lo porto un cartone per volta, magari alla fortuna, quasi tutti cominciano con i locali che hanno attorno, poi via via si espandono. Si allargano. Dicevamo le nostre birre, la rossa appunto nata anche su richiesta da parte delle pizzerie, proprio perché la pizzeria veniva apprezzata. Si voleva l'alternativa rossa. L'alternativa rossa. Quindi noi, va bene, andiamo di rossa. Ma d'altronde, se vai in pizzeria, non c'è la birra artigianale, ma la gente che cosa chiede? O la doppio malto. O la doppio malto. Ragazzi, purtroppo questa... Poi, ok, bisogna farla entrare nella testa delle persone che non significa niente e tutto il resto. Però ci dobbiamo mettere... Anche lì, uno si deve mettere nei panni di chi non è appassionato a chi ne frega niente della birra, però quando si va a mangiare la pizza ci vuole la birra. La rossa. Cosa vuoi? La rossa, la bionda, la doppio malto. E' sbagliatissimo, chi è appassionato lo sa, che non significa niente dire una rossa, una bionda e quello che è. Però di fatto la gente quello chiede a chi ha il locale, no? E quindi qualcosa gli devi dare. È giusto? Una risposta gliela devi dare. Una parvenza di colore, almeno quella... Sforziamoci. Sì, infatti. Anche perché si può fare, voglio dire. Sì, si può fare. Si può fare in tanti momenti. Ci sono le more, ci sono le barbabiette. Va bene, ti volevo chiedere se sei riaffezionato a qualche birra in particolare, ma a questo punto non te lo chiedo. Non me lo chiedere perché sono affazionato a tutte. A tutte. E infatti, perché sono tutte troppo particolari per potersi affazionare a una in particolare. Non puoi scegliere una birra. Magari quella che verrà come... Non lo so. Intanto ecco la rossa, ne andiamo fieri perché è una rossa in stile inglese. Ci sono sei malti, proprio perché il target era la pizzeria, sono malti che sono tostati ad arrivare fino all'affumicatura, note di secche, cioccolato, caffè. Ah, quindi arriviamo all'affumicatura pure. Sì, col malto, i malti che utilizziamo sì, infatti... Va bene, l'intervista finisce qua, perché dobbiamo assaggiare questa birra? No, scherzo. È la IPA, come hai provato, la IPA che non è amara. No, infatti non è amara. Lo senti io, la IPA non è amara. O meglio, o meglio, o meglio. È molto ben bilanciata, però poi a lungo andare un po' di amaro sottile c'è. Solitamente nelle nostre produzioni andiamo dai 900 al chile 2, chile 4 di luppoli, qui quasi 5 chile di luppoli. Dovrebbe essere esageratissimo, la gente mi chiede una IPA, una IPA, una IPA, tutti si aspettano la birra amara, io lo anticipo che la birra non sarà amara, tu dammi la IPA, ma questa non è IPA, ma me lo spieghi che cosa significa io, perché deve essere amara l'IPA, perché io spendo un capitale di soldi in 4 kg di luppolo e ti tiro fuori solo l'amaro in 6 luppoli che utilizzo, ma che senso ha? E allora senti la nota erbacea, la nota fruttata, la nota floreale, speziata, agrumata, sennò basta, metto carciofi là dentro, forse un'APA, la prossima stiamo lavorando un'APA, adesso il clima aiuta, vorremmo fare una Stout, una Porter, quindi i progetti per il futuro, mi chiedevi, a parte le birre, grazie proprio all'affetto che stiamo ricevendo da questa città, è nato questo posticino. E infatti, perché come noterete, non siamo in birrificio, ma Luca ci teneva molto a fare l'intervista qui, perché appunto è il suo progetto, è il progetto del futuro del birrificio, del genio, che in realtà già è reale, è tangibile, è reale, è tangibile, e quindi raccontaci, che cos'è questo posto? Questo posto è la rinascita di un luogo, di questa città, che per decenni è stato utilizzato come salotto dalla gente che abitava questo spazio, improvvisamente abbandonato e quindi occupato purtroppo dal degrado sociale totale, episodi di violenza, brutti episodi che anche questo fanno parte, ecco, contraddistinguono le città. Nel primo natalizio qui alle spalle è stata fatta la fiera di Natale, noi abbiamo partecipato con l'associazione di cui faccio parte, che in particolare è confartigianato. il direttore artistico nella figura di Costantino Sparacio, che è un trattore di iniziative volte proprio alla riqualifica degli spazi, ha presidiato questo posto con il persepito di Natale, le attività laboratoriali per i bambini, casette istituzionali. Insomma, il classico mercatino di Natale è magari molto più grande rispetto a... Molto più grande, a questo punto però è stato, diciamo, dedicato alla cultura e a attività ricreative per bambini, insomma spettacoli di danza, spettacoli di musica, pianoforte. Il progetto funzionava, lui ha fatto una passeggiata tra noi associati di confartigianato, chiedendo chi volesse continuare questo percorso iniziato nel primo natalizio. Un po' di pazzi qui che siamo in questo spazio, abbiamo aderito, non potevamo non farlo perché per noi è importantissimo sempre ricevere, ma anche dare qualche cosa, con quello che si può. Quindi tempo, risorse, tanto amore perché poi di fatto quando ti ritrovi assieme ad altri artigiani a spazzare, a pulire, a scrostare il marcio dal pavimento e dai muri, ti rendi conto e ricevere anche apprezzamenti dalla comunità attorno, proprio perché questo spazio è stato anche presidiato, non presidiato, le attività di denuncia di questo degrado sono state fatte da un comitato in particolare che è stato costituito, il comitato Piazza Lungheria, che per anni ha denunciato proprio questo degrado e gli apprezzamenti ricevuti, non mi dimenticherò mai, una signora, una settantina, forse qualche anno in più ce l'avevo, mentre noi pulivamo, lei appoggiata nelle transenne posizionate più in basso, che ci fissava, con una faccia un po' particolare, anche tu vedi una signora anzianotta, ti ci avvicini, tutto bene, c'è qualcosa che va, che non va, in realtà questa signora ci disse, io erano forse più di due o tre anni che non attraversavo il marciapiede perché avevo paura ad attraversare la strada, è il paradosso più totale, i brividi, come fai ad avere paura ad attraversare un marciapiede, cioè il marciapiede di fronte sì e quello di fronte no, quindi sono cose che, bravi ragazzi, continuate così, queste, sono queste alla fine, il nostro motore, la nostra benzina, basta anche un bravi ragazzi, grazie per quello che state facendo, queste sono cose che ci danno l'infa, e il progetto non è finito, è in corso, come si può sentire, come si sente dal sottofondo, vogliamo dire dove siamo precisamente, tanto voglio dire non è un problema perché se vi trovano sempre, non ci sono degli orari, questa è una persecuzione della fiera di Natale, quindi è uno spazio aperto, uno spazio aperto della città, è uno spazio aperto alla città, e siamo in via Mariano Stabile, i portici di via Mariano Stabile, la parte alta di via Mariano Stabile, e qui appunto sono previste tante attività culturali, deve ritornare, vogliamo che sia di nuovo un salotto urbano della città, così come è stato prima, deve ritornare a essere quello che è, la sua vocazione proprio come luogo, deve ritornare a essere quello che era. Ci sono degli orari per venire a trovare nel caso? Quando volete, quando volete, siamo sempre aperti, siamo sempre aperti, disponibili alla chiacchiera sempre. Ok, ti volevo chiedere qualcosa per i nerd che ci seguono, però non lo so se è il caso di chiudere l'intervista così, non mi, no, non la voglio chiudere con i dati tecnici dell'impianto, delle cose, anche perché un po' l'abbiamo detto, quindi va bene, va bene così. Luca? Che cosa? Fidiamo la rossa? Fidiamo, vuoi dire qualche altra cosa? No ragazzi, l'unica cosa che mi sento di dire è a tutti gli appassionati di questo mondo, di continuare a seguirlo, inseguirlo, non bisogna, io non credo nemmeno che mai bisogna ghettizzarsi all'interno del BJCP, perché poi è una, è una regola, è una cosa che è giusto. Per i concorsi. Per i concorsi, giusto. Poi bisogna... È fatto apposta. È fatto apposta per i concorsi, e bisogna perché non... No, ma questa la devo tagliare, perché sennò mi liciono il canale, mi cercano sotto casa, ma sei un pazzo? No, 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 distruggono me poi... Viene poi anche dove trovarsi, quindi sempre... Quando volete tanto... Birra del genio, se cercatemi così nei social... No, no, ma sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, non bisogna... Ma d'altronde... Come può nascere un nuovo stile di birra se si continua a seguire il manuale? Chiaro, chiaro. È giusto, perché dobbiamo... C'è la Pils, c'è la Ipa, la Golden Ailer, la Red Dale, no, la Saison, ma come sono state inventate? Certo, assoluto. Continuiamo a... In particolare, perché c'è solo quella, e quindi... Cioè, non è che... Capito? Qua è così, nasce lo stile. E come dici tu, fossilizzarsi non è mai, diciamo, proficuo. Va bene. A quanto siamo, regia? 45 minuti? Oh, basta! Luca, che dire? Io ti ringrazio per averci ospitato qui al tuo... Bistro letterario. Bistro letterario. Speriamo di incontrarci adesso per qualche altra occasione. Ciao. Ciao, caro. Ciao.